In un primo momento era sembrato un tragico incidente stradale, quello avvenuto ieri nel comune di Marano in provincia di Napoli in cui ha perso la vita il 19enne Corrado Finale ed un altro giovane di 18 anni è rimasto ferito. Stanno emergendo in queste ore nuovi dettagli dall'impatto che è avvenuto in via del mare tra un utilitario e uno scooter che potrebbe non essere stato una tragica fatalità. Le indagini dei carabinieri hanno preso una piega diversa e il conducente dell'autovettura è stato sentito per ore dal PM di turno della procura di Napoli Nord, nella locale Caserma dell'Arma. Il conducente della vettura, un giovane di 20 anni allontanatosi dopo lo scontro, si è presentato nella tarda mattinata di ieri dai carabinieri accompagnato dal suo legale. Sia chi era la guida della macchina che i due giovani in sella allo scooter sono tutti residenti a Marano e gli investigatori stanno accertando se si conoscessero. Sono stati recolti elementi in attesa di conferma che ipotizzerebbero ruggini tra gruppi di giovani del posto. L'impatto è avvenuto in Via del Mare, una strada del centro di Marano che passa lungo una zona residenziale che porta alla zona collinare dei Camaldoli. La vicenda potrà essere comunque definita quando gli investigatori finiranno di ascoltare il giovane che è rimasto ferito. Nell'impatto ha riportato fratture multiple che sono state giudicate guaribili in 30 giorni. I veicoli coinvolti nello scontro sono stati sequestrati e attenzione al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'evento viene posta anche all'analisi dei punti di collisione delle tracce di frenata lasciate sull'asfalto, elementi che potrebbero essere determinanti per stabilire la posizione dell'investitore.